La procura di Crotone ha chiuso le indagini per il pestaggio che ha ridotto in fin di vita il 21enne Davide Ferrerio, avvenuto a Crotone l'11 agosto scorso. Il giovane, di origini bolognesi in Calabria per le vacanze dai parenti, da quel giorno è in coma e attualmente si trova ancora ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna. Tra gli indagati, Niccolò Passalacqua, il 22enne, accusato di tentato omicidio per aver picchiato selvaggiamente Davide scambiandolo per un'altra persona. Concorso anomalo in tentato omicidio invece l'accusa sia per la madre della ragazza, 17enne, al centro della contesa, per la quale l'accusa ipotizza un ruolo attivo nell'organizzazione della spedizione punitiva ai danni dell'incolpevole 21enne bolognese, sia per un cittadino di origini romene, Andrei Gaio, 34 anni, che secondo l'accusa avrebbe partecipato attivamente alla spedizione punitiva. L'accusa di concorso anomalo è stata formulata dalla procura dei minorenni di Catanzaro anche per la ragazza 17enne. Dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e degli apparati cellulari dei soggetti coinvolti, oltre che dagli interrogatori, è venuto fuori che Davide e il suo aggressore non si conoscevano che passa l'acqua stava cercando un uomo che tramite i social aveva dato appuntamento alla ragazza minorenne alla quale lui era interessato. Da qui l'aggressione selvaggio che ha ridotto in coma la vittima.